Qualcuno l'ha ribattezzato il piano Marshall per le disastrate infrastrutture pavesi e in effetti i cantieri che spuntano come funghi con relative code e disagi lungo le provinciali sembrano confermarlo. Oltre a quelli dei punti sul Po, della Becca e della Gerola e a quello sulla tangenziale di Voghera, sono iniziati diversi lavori di messa in sicurezza e asfaltatura anche in oltre Po. In Valle Staffora riguardano per la precisione la SP90 che collega a Casanova Staffora a Pian del Poggio, un tratto al centro negli ultimi anni di feroci polemiche da parte di residenti e villeggianti a causa delle pessime condizioni in cui versava. Sempre in Valle Staffora sarà riqualificata la SP184 che da Godiasco porta a Fortunago. In oltre Po orientali invece gli interventi riguarderanno le provinciali 201 e 203 nei comuni di Colli Verdi, Zavattarello, Fortunago e Borgoratto-Mormorolo. Per questi ultimi interventi la provincia di Pavia ha messo a disposizione circa 700 mila euro, ma un altro milione di euro verrà destinato da Piazza Italia alle strade di montagna dell'oltre Po a settembre. Tra i lavori più attesi ci sono senz'altro quelli alla tangenziale di Voghera, al Via Lunedì, per la quale da anni il territorio invoca una sistemazione. Il cantiere impora la chiusura totale del primo tratto a partire da ovest, ovvero quello compreso fra la rotatoria nella zona di Via Tortona e quella di Medassino, dove sorge anche l'imbocco dell'autostrada A21. I lavori in questo primo tratto dovrebbero concludersi entro la prima settimana di agosto. Grazie a tutti.